Prima c'era l'oscurità, poi vennero gli stranieri. Arrivano quando dormiamo, in cerca di una cura per la loro mortalità, per rubare i nostri pensieri, la nostra anima ci rende diversi da loro, per mutare i nostri ricordi, abbiamo molto da fare, per portarci via tutto quello che ci rende umani, è il momento, ci sono loro, rispondimi! Ma uno di noi conosce il loro segreto. Lei ha visto qualcosa, non è vero? Credo che il sole neanche esista. Uno di noi... Il tempo sta per scadere! Non c'è via d'uscita. Ha il potere di fermarli. Grazie a tutti!